Numero 5. Questa mini lavastoviglie Electrolux è il prodotto ideale per chi cerca un elettrodomestico compatto e a basso consumo energetico. Grazie alla sua classe F, questo modello garantisce un risparmio notevole sulle bollette. Con una capacità di 6 coperti e 6 programmi diversi, è perfetta per famiglie di 2 o 3 persone. Un punto forte è sicuramente la scomparsa totale, che la rende invisibile all'interno dei mobili della cucina. Inoltre, è possibile allacciarla all'acqua calda per un ulteriore risparmio energetico. Unica pecca è l'assenza di un programma di lavaggio personalizzabile, ma la presenza di un ciclo automatico lo compensa. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 4. La Siemens IQ500 è una mini lavastoviglie dal design elegante e moderno, ideale per chi ha poco spazio in casa ma non vuole rinunciare alle prestazioni di un elettrodomestico di alta qualità. Con una capacità di 7 coperti e la classe energetica F, ha un consumo di energia di 67 kWh ogni 100 cicli, risultando una scelta ecologica e sostenibile. Tra i punti forti di questo prodotto vi è la possibilità di installarlo a scomparsa parziale, garantendo un aspetto ordinato e pulito alla cucina. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 3. Questa di Candy è una mini lavastoviglie che promette risultati decenti nonostante il suo fattore di forma ridotto. Con una capacità di 6 coperti, è perfetta per chi vive da solo o in una coppia. I punti forti di questo prodotto sono sicuramente il buon numero di programmi disponibili e il basso consumo idrico. Tuttavia, il suo punto debole è senza dubbio la rumorosità, che potrebbe risultare fastidiosa per alcuni utenti. La scheda tecnica evidenzia una classe energetica F e un consumo di energia di 61 kWh ogni 100 cicli di lavaggio, mentre il consumo idrico è di soli 6,5 litri. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Numero 2. La mini lavastoviglie Klarstein Amazonia Mini è una scelta eccellente per coloro che vivono in piccoli spazi o cercano un dispositivo compatto ma potente. Con una capacità di soli due coperti, è perfetta per singoli o coppie, ma grazie ai suoi 5 programmi di lavaggio, è in grado di affrontare una vasta gamma di stoviglie e posate. Uno dei punti di forza più apprezzati è il programma dedicato ai biberon, perfetto per chi ha bambini in casa. Inoltre, ci sono programmi speciali per lavare la frutta, eliminando i residui di pesticidi e altre sostanze nocive. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione. Numero 1. Questa mini lavastoviglie Bosch Serie 6 è un prodotto dalle dimensioni compatte ma con ottime prestazioni. Grazie al programma automatico e alla funzione igienizzante, è possibile ottenere un lavaggio preciso e una buona asciugatura in tempi relativamente brevi. Tuttavia, la mancanza di una funzione smart e il consumo energetico elevato potrebbero essere un punto debole per alcuni utenti. Per quanto riguarda la scheda tecnica, la possibilità di installarla a incasso e la presenza di un solo cestello la rendono ideale per i piccoli spazi. Nonostante la classe energetica F, il consumo idrico è limitato a soli 8 litri per lavaggio. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto.